Eccoci qua, siamo nel lavatoio datato 1880, 1880, guardate un attimino e luce verso, ecco, ecco perfetto, così si vede proprio bene, molto bene e l'acquedotto della cisterna, eccola qua lo sporco non andava dentro, lo sporco andava in questa canaletta che poi, vedete, finiva qui fuori quindi l'acqua sporca veniva buttata qua, quindi lì abbiamo sempre acqua pulita e i panni si lavavano qua, sulla pietra, guardate, ce ne postevano stanno le persone una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, una ventina tranquillamente calda? è calda, è calda, è calda, comunque c'è una cosa che assomiglia a questa, la basanta buttata agli osso, tra basanta e ghirazza, se lavavano lo stesso, in antichità lavavano i panni ma è incredibile, è calda, metti la luce, metti la luce qua, guardate, è calda si, si, è tiepida diciamo che non è fredda ma rispetto a fuori è calda guarda, facendo, mettendo la mano così, è stupido, quindi viene e più anche, si diciamo che oh, se volete vedere quanto è più calda di quello che uno può immaginare mettete la mano qua quasi la riscalda la mano bella guarda ma tenedola anche, comunque è a un certo livello in più, se no adesso è, io non c'ho più le mani è abbastanza però non è come un acqua del rubinetto certo